buonasera amici di italiano enduro eccoci qua guardate che bella la divisa il backdrop il logo insomma siamo veramente pronti a questa prima domenica insieme è una domenica speciale perché abbiamo i finalisti del quiz sull'enduro insieme a maxis e motocross marketing insieme a me ci sarà un giudice d'eccezione ovvero davide show soreca intanto saluto tutti quelli che si stanno collegando ora sulla pagina di italiano enduro buona domenica spero che sia l'ultima domenica a casa di quelle sofferte però le abbiamo sofferte sempre col sorriso ecco che è arrivato davide ciao a tutti ciao a tutti ciao come va bene tutto bene tutto bene hai ripreso gli allenamenti sì dai per fortuna sono riuscito a fare qualche giro in moto che ci voleva dopo tanto meno male abbiamo avuto un sacco di riscontro è con i video tuoi e di thomas marini e quindi abbiamo otto finalisti non so se siamo noi o le gomme che hanno fatto più di solito quando si regala qualcosa diciamo la richiesta è sempre alta potevi dire che fossimo noi no dai sicuramente non sono io saluto giorgio miotto giorgio sì da domani esco che mi ha detto se se ho deciso di uscire ce la farò anche io davide ma ho sentito dire che sei rimasto a piedi come no ieri sono sono andato in bici solo che ho bucato e come al mio solito non avevo niente e quindi sono rimasto lì nel bosco però il buon davide guarneri mi ha detto sempre che col telefono sei a posto infatti poi ho chiamato soccorsi e avevo da mangiare avevo la giacca avevo il telefono comunque anch'io un po di anni fa quando ho ripreso la bici andavo senza nessun tipo di attrezzo speravo una fortuna mi è andata quasi sempre bene va bene allora tra tra poco introdurremo insieme a te ciao thomas salutiamo thomas e introdurremo insieme a te i primi due ospiti che sono marco e andrea quindi io andrei già a conoscerli ciao 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 allora andrea dove sei in camera io si sono in camera andrea in camera mentre marco dove sei in garage sono in garage sei appena tornato sei appena tornato oh ma che roba ecco vedi still è uno sponsor che mi piacerebbe avere perché in questa quarantena ho tagliato tante di quelle piante che e poi ho sentito dire che spingono eh di dove siete di dove sei andrea io sono in provincia di parma provincia di parma sentiva un po dall'accento allora siete pronti per iniziare sì sì ok quindi andiamo con la prima domanda che edizione doveva essere quella della isde 2020 quindi la sei giorni di quest'anno prima risposta la 95esima edizione seconda risposta la 93esima terza risposta la 91esima quindi 95 93 91 93 93 è vero dovevamo iniziare da andrea da andrea 93 la risposta è sbagliata era la 95esima allora passiamo ora a marco domanda per te marco quanti titoli mondiale di mondiali chi vinse mica a ola 4 5 o 6 titoli mondiali 5 risposta esatta quindi 1 a 0 per mare stato escluso se avesse sbagliato ok quindi siamo 1 a 0 per marco passiamo alla terza domanda per andrea le premiazioni del campionato italiano sono fissate 30 minuti da l'esposizione delle classifiche ufficiali l'arrivo effettivo dell'ultimo pilota o l'arrivo teorico dell'ultimo pilota quando vengono affisse le classifiche queste cose credo sia dall'arrivo teorico dell'ultimo risposta esatta bravo andrea passiamo a marco in che anno alex salvini vinse il titolo mondiale 2015 2013 2014 14 14 14 risposta sbagliata siete uno pari attenzione che adesso c'è la terza e teoricamente l'ultimo vediamo come va da chi era composta la squadra azzurra questa è per andrea che vinse il vaso isde 2008 in grecia vediamo se ti ricordi i nomi ma è risposta libera sì sì questa sì direi che non la so ma sparerei assolutamente a caso la squadra azzurra che vinse il vaso isde 2008 in grecia va beh dai di qualche nome vediamo ah guarda butto dentro a caso vai salvini mi sa che non c'era neanche nell'enduro 2008 e oltrati può essere dai ti do un aiuto uno era di piacenza niente di piacenza ah sì ma e ancora cinque secondi cinque quattro tre due uno erano Thomas Ondrati Mirko Gritti Vanni Cominotto e Oscar Balletti questa era difficile Andrea questa era difficile passiamo a Marco dove si doveva svolgere la prima prova di assoluti d'Italia quest'anno Alassio Arma di Taggia o Passirano è sparito Marco no aspetta dove è andato ti sentiamo ti sentiamo puoi rispondere è tutto nero fa niente ti sentiamo lo stesso hai cinque secondi cinque quattro dove si svolge dove si svolgeva la prima prova di assoluti non ho capito la domanda assoluti d'Italia duemila e venti dove si sarebbe dovuto svolgere la prima prova sì Alassio Arma di Taggia o Passirano cinque quattro tre due uno l'abbiamo aperto Passirano 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 era Passirano Bravo Marco guarda alla sesta ripetizione la prendiamo buona quindi hai vinto hai vinto eh ma non vi vedo no vi vedo però non vedo il mio video fa niente la risposta era buona quindi passano alla prossima fase passa alla prossima fase Marco quindi direi di passare alla prossima coppia di sfidanti ok quindi ringrazio Andrea grazie Andre ciao ciao sei stato bravo comunque bravo Andrea passiamo alla seconda sfida ovvero Tommaso e Raffaello buonasera a tutti ciao Raffaello ciao Francesco ciao prima cosa Francesco i concorrenti dovresti dargli la maglietta i concorrenti non possono mettere ognuno la sua maglietta ma noi ce le abbiamo le magliette ma non abbiamo avuto eh va bene vieni le te ciao Tommaso ciao 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 Tommaso è collegato dal Quirinale mentre Raffaello da una classe scuola a scuola mi sembra esatto è un maestro un professore no no sono in ufficio ah ok ok va bene ragazzi siete pronti pronti entriamo in cammina ditemi però di dove stiete Raffaello di dove sei Bergamo non si sente Bergamo venti metri dal Thomas ah all'Ondrati sì allora sono venuto a trovarvi un po' di mesi fa eh prima di salire sei passato in un grande parcheggio ah avete in quella zona lì esatto Tommaso ci sei? sì io sono di Pistoia Toscana ah di Pistoia bene sarà una bella sfida allora iniziamo prima domanda partiamo da Raffaello detto il professore visto lo stesso detto il professore come si chiamava l'enduro negli anni Ottanta regolarità regolarità endurata o moto cavalcata regolarità regolarità Raffaello sei a uno risposta esatta passiamo a Tommaso dal 2020 è fatto obbligo al parco chiuso di risposta a uno mettere la moto allineata a sinistra mettere il tappetino sotto la moto oppure entrare con il serbatoio vuoto il tappetino risposta esatta mi piace mi piace oggi la seconda sfida li vedo belli preparati passiamo a Raffaello in che anno Ivan Cervantes si ritirò ufficialmente dalle corse 2016 2018 2019 2019 hai cinque secondi 18 2018 secondo voi è giusta Davide Tommaso non penso è giusta è giusta è giusta bravo Raffaello questo era di avrei sbagliato passiamo a Tommaso qual è il soprannome di Antoine Meo risposta numero uno The Alligator numero due El Torito numero tre The Ambassador hai dieci secondi la prima la prima The Alligator sì risposta esatta è tosta eh bravi bravi tutti e due attenzione alla prossima domanda Raffaello vietato sbagliare quanti titoli italiani di classe agli assoluti d'Italia ha vinto Davide Soreca due tre o quattro titoli Raffaello dieci secondi tre Davide giusto o sbagliata sbagliata no ma come sbagliata o è giusto è giusto tre è giusto perché secondo te quanti ne hai vinti secondo me quattro ah dici quattro noi noi abbiamo contato tre però devi fare un'altra domanda però il beneficio del dubbio è allora vai Davide 2014 assoluti e under 23 con dimmi Davide dimmi anche la squadra che eri con Boano Boano poi 2017 junior con Honda però la domanda era quanti titoli italiani di classe agli assoluti eh agli assoluti sì quindi tre allora sì allora sì giusto giusto Raffaello giusto giusto Tommaso occhio eh che Raffaello è già a tre quale di queste moto ha la frizione a cavo quindi non idraulica quale di queste moto ha la frizione a cavo Usquarna Beta Honda 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 secondo te ha la frizione a cavo e la risposta è esatta tre a tre attenzione pareggio quindi adesso il primo che sbaglia lascia la vittoria all'altro eh Raffaello tocca a te chi vinse la classe assoluta detta anche la ex super campione nel duemila e sei Johnny Obert Simone Albergoni Stefan Merriman Merriman che fa Merriman risposta esatta passiamo a Tommaso Tommaso ah che sei stato sei stato fortunato di avere un avversario preparato fortunatissimo domanda per Tommaso di che colore è la bandiera posta al CIO bianca gialla o blu posta al CIO gialla gialla hai detto gialla Tommaso no è vero CIO è bianca guarda che devo fare come Gerry Scotti e devo dirti che è la tua risposta definitiva CIO gialla o bianca hai ancora cinque secondi cinque quattro tre due uno bianca dice bianca ragazzi la risposta giusta era gialla no avevo ragione Tommaso ha buttato via così il pareggio quindi vince Raffaello sfida e con l'impata però sei stato bravo va bene hai visto Davide preparati eh molto avrei sbagliato anche la mia quindi era fine era fine agli assoluti va bene allora Tommaso Raffaello vi ringraziamo Raffaello poi rimani collegato perché andiamo alla fase successiva va bene ciao Tommaso quindi per ora devono rimanere online andiamo a ricapitolare la situazione Raffaello per la seconda sfida e ora andiamo a vedere la terza sfida andiamo a scoprire quello lì ne sapevo un sacco anche quella del 2006 di Merriman infatti era di Bergum allora per ora Marco e Raffaello sono in finale Marco che boh spariva vogliamo la prova video però per Marco e alla prossima deve essere tutto ok perché sennò vuol dire che va a leggere su Google e non vale allora passiamo alla terza coppia di sfidanti ovvero Sandro e Antonio ciao 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 Sandro come Sandro Puzza e Antonio come Antonio tra l'altro sono della stessa città di Cairoli io sono di Messina quindi ah ok ok e lui è di Patti provincia di Messina sì provincia bene bene e invece Sandro dove sei provincia di Parma Bedogna ah ok ok quindi siete pronti iniziamo iniziamo da Antonio io inizio sempre da quello che vedo alla mia sinistra in che anno è nato Brad Freeman Antonio 1994 1996 1998 10 secondi nel 96 eh subito giusta bravo Antonio risposta esatta Sandro dimmi domanda tecnica su su uno dei due brand che ha ha fatto questa sfida motocross marketing dove ha la sua sede a Carnago a Bergamo o a Treviglio non puoi sbagliare non puoi sbagliare non puoi sbagliare Carnago Carnago giusto Skippy questa l'hai fatta a te questa domanda io ci abito abbastanza vicino bravo Sandro soprattutto premio per la convinzione eh io ho visto Antonio attenzione chi è il motoclub vincitore degli assoluti d'Italia 2019 motoclub Trial David Fornaroli gruppo sportivo Fiamme Oro Milano o motoclub Sebino Sebino risposta esatta bravo Antonio bravo era difficile questa eh sì ero combattuto tra Fornaroli e il Sebino guarda Sandro che Antonio mi sembra un po' è preparato la vedo dura la vedo dura mi sembra un po' uno di quei campioni di Sarabanda tipo l'uomo gatto diciamo che qualche gara l'ho visto oh eh Sandro andiamo a te abbastanza facile questa eh la moto 2020 di Steve Volcom è tu dirai beta no beta siamo certi ma la cilindrata 354 tempi 252 tempi o 302 tempi la moto di questa stagione di Steve Volcom quattro tempi quindi 354 tempi sì giusto giusto bravo Sandro giusto ok passiamo nuovamente ad Antonio e Antonio per te in che anno vinse il titolo mondiale junior Matteo Cavallo 2017 2018 2019 2017 2017 risposta sbagliata l'ha vinto nel 2018 sbagliato cazzo sbagliato eh vabbè mi sono confuso sì sì passiamo nuovamente a Sandro con che moto Matthew Phillips vinse il mondiale enduro GP nel 2016 Usquarna Sherco o KTM certo giusto giusto bene KTM è venuto prima come titolo quindi ha vinto Sandro ha vinto Sandro complimenti complimenti Sandro però grazie grazie Antonio per aver partecipato sei stato è stato un piacere è stato un piacere un saluto a Davide ci vediamo presto tra le gare ciao ciao volentieri ciao ciao Antonio Sandro poi rimani rimani online che ti ti riprendiamo andiamo alla quarta coppia ovvero tutta il femminile questa sfida Maddalena ed Emanuela eh insomma Davide anche delle ragazze per noi ciao con tutta la fatica che facciamo ciao Emanuela come stai? bene grazie voi? noi anche tutto bene tutto bene noi stiamo benissimo ci dicono che manca la seconda per un attimo l'ho vista diamole qualche qualche istante arriva 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 è una donna si fa aspettare si fa aspettare Emanuela tu si ti senti preparata? sei appassionata di enduro? beh diciamo di sì perché seguo mio figlio che fa le gare ah ok come si chiama tuo figlio? è il campionato fa? Eric di Berardino ok lo conosci Davide? sì lo vedo sui social è attivo sui social è il tuo fans è il mio fans sì lo so quanti anni ha? venti venti ah è giovane è giovane bene bene da quanto tempo vai in moto? cinque anni sette sette anni sette anni allora ha una certa esperienza sì dai salutamelo salutamelo va bene grazie eccola eccola ci sono ci sei? ok ci vediamo ci sentiamo come stai? bene bene voi? bene 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 noi adesso che che vi vediamo entrambe è ancora meglio allora di dove sei tu Maddalena? Bassano del Grappa Bassano del Grappa ok ok allora dai iniziamo iniziamo e facciamolo da Maddalena chi vinse il campionato del mondo Enduro GP nel 2018 Brad Freeman Loic Lariu o Steve Holcomb? dieci secondi di tempo Steve Holcomb risposta esatta complimenti passiamo a Emanuela chi vinse la classe assoluta degli assoluti d'Italia nel 2017 Alex Salvini Antoine Meo o Christophe Charlier la prima Alex Salvini e invece è Christophe Charlier allora intanto prendo nota era facile sbagliare questa Salvini ne ha vinte tante quindi ok andiamo alla prossima Maddalena quanti litri contiene il serbatoio di una moto da enduro tra i cinque e i sei tra i sette e mezzo e i nove e mezzo o tra i dieci e i dodici facilissima tra i sette e mezzo e i nove e mezzo sì è la tua risposta definitiva sì esatto esatto non ti intimidire da me io io gioco quindi Maddalena ne hai già vinte due di fila andiamo con la domanda per Emanuela quali sono le classi della Coppa Italia Enduro Coppa Italia Enduro quindi classi sono risposta A 125 250 350 e 450 e 450 risposta B e 1 e 2 e 3 risposta C cadetti junior senior major e lady 10 secondi da ora risposta esatta ti sei salvata Emanuela attenzione alla prossima Maddalena a che ora sono previste le verifiche amministrative al campionato italiano Enduro alle 12 alle 16 alle 13 e 30 e alle 17 tra le 14 e le 18 e 30 14 18 e 30 risposta sbagliata riapre i giochi Maddalena Maddalena non te la prendere insomma ah no no capita capita Emanuela tocca a te domanda abbastanza tecnica allora Franco Gualdi è risposta numero 1 coordinatore nazionale fuoristrada risposta 2 coordinatore nazionale Enduro risposta 3 coordinatore nazionale motocross Franco Gualdi grande campione la prima coordinatore nazionale fuoristrada la risposta è sbagliata passa Maddalena peccato coordinatore nazionale Enduro Franco Gualdi che salutiamo quindi Maddalena sei passata Emanuela noi ti ringraziamo per la presenza per aver partecipato salutaci il tuo pilota ok grazie a voi ciao grazie a te grazie Maddalena rimani sempre online quindi andiamo a scoprire i nomi di chi passa ovvero Marco e Raffaello in sfida nell'ordine Marco Ravanetti speriamo sia tornato è sempre l'uomo nero allora facciamo così se Marco e noi non ti vediamo però se Marco riesce a risolvere i problemi tecnici lo teniamo online se no tu lo vedi Monica chiedo alla regia perché io non lo vedo tu Raffaello lo vedi vedi Marco no vedete tutto nero sparito adesso è sparito è un total black è un total black allora facciamo così potremmo fare nel frattempo che Marco prova a risolvere il problema tecnico potremmo prendere un altro dei vincitori quindi Sandro se non erro Sandro dovrebbe sfidare Raffaello eccolo dobbiamo dobbiamo sistemare quel problema tecnico perché se no con lo schermo nero io posso leggere cioè potrei fare qualsiasi cosa quindi dai non ci sono libri raffaello ecco facciamo a tre adesso allora facciamo la sfida nell'ordine corretto vero Marco con il raffaello Sandro te rimani lì ancora allora Marco contro Raffaello l'endurista contro il professore di enduro l'allievo è il maestro allora c'è un po' di ritorno però domanda per Marco quanti mondiali ha vinto Mario Rinaldi mi vedi mi vedo quanti mondiali ha vinto Mario Rinaldi tre quattro o sei la domanda libera domanda libera no eh tre quattro o sei ripetila scoppi sei sei risposta sbagliata passiamo a Raffaello sei sei Raffaello sei Marco è finita la domanda Raffaello Marco ha un ritardo di circa ventitré ore ha detto sei Francesco ha detto sei Marco spegni la diretta tieni solo link operativo se no non ne usciamo vivi allora Raffaello un po' di tranquillità adesso suggerimento per Marco non tenere aperto facebook tieni solo il link del programma ok se no c'è un ritardo cambiato da moto in garage con una birretta aperta hai visto si è spostato il telefono un spettacolo eccolo qua è tornato il nostro incubo allora Raffaello intanto passiamo alla tua domanda sono no aspetta in che anno è stata abbiamo una foto aspetta foto numero due per la regia per la regia facciamo vedere la foto aspetta che arriva ce l'abbiamo la foto per Raffaello foto numero due eccola qua chi sono i piloti e team manager nella foto allora Fabio Parioli il Cervantes uno posti finlandese che cavolo come si chiama no no ti aiuto non è finlandese ti do una buona notizia che Farioli e Cervantes sono corretti sì ma non è finlandese non è non è finlandese che Knight che Knight e gli altri no no Knight metti gli occhiali metti gli occhiali Knight aveva già smesso da un po' ultimi 5 secondi 5 4 3 2 1 tempo scaduto questo era difficile Raffa era difficile allora sono Robert Taylor Christophe Nambotin Fabio Farioli Ivan Cervantes Cervantes e Nathan Watson alla fine ah Nathan Watson però Raffaello questa era tosta questa era tosta però Marco ne ha sbagliata una e adesso ce n'è una tosta anche per Marco quindi non non demoralizzarti andiamo con una foto ecco la foto numero 3 che adesso la regina dovrebbe mostrarci ti vediamo Marco tutto a posto collegamento ok in che anno è stata scattata la foto che vedi ti dico le tre opzioni 2014 2015 e 2016 14 14 risposta sbagliata 2016 anno in cui Rudy si è laureato campione italiano Rudy Moroni ovviamente è il bomber è il bomber hai visto Raffaello che l'abbiamo sistemato Marco attenzione no io Marco tifo anche per te era perché la domanda per Raffaello prima era difficile allora passiamo a domanda per Raffaello qual è il numero di Thomas Oldrati 15 22 o 34 il numero di gara 22 questa era era facile questa è la mia è proprio questa eh ma trovo una via di mezzo una troppo facile una troppo ma adesso c'è quella facile anche per Marco e vedremo Marco chi è l'attuale presidente della FMI della Federazione Motociclistica Italiana nome? nome eh Luigi sono solo il nome è solo il nome Luigi non sai neanche il nome Luigi no allora sono sbagliato non dico niente che faccio più bella più sei troppo forte Giovanni Giovanni Copioli quindi allora Marco hai fatto tre errori quindi passa Raffaello però Marco vinci il premio simpatia sì vai sì Marco ma dove è la birra che prima ho visto una birra no era vino vino birra ciao Marco grazie ciao è numero uno Raffaello sei passato rimani online ok quindi Raffa è passato e andiamo ai prossimi due sfidanti ovvero Sandro Sandro mi trasmette una positività una tranquillità ah io sono tranquillissimo e poi la bellissima Maddalena cioè Maddalena tu guarda i quattro riquadri no cioè ci siamo io Sandro e Davide e poi ci sei tu cioè grazie grazie di vissere allora iniziamo da Maddalena facilissima domanda facilissima facilissima come quella prima chi fu il presidente di federazione motociclistica italiana prima di Giovanni Copioli domanda aperta quindi dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno paolo sesti paolo sesti non lo spevo ok quindi è peggio ma dai non erano le donne a parlare lo so lo so lo so però cultura generale dai allora passiamo a Sandro Sandro semplice semplicissima chi vinse il titolo 2019 della classe 125 Gianluca Martini Tommaso Montanari Thomas Oldrati chi ha vinto la classe 125 l'anno scorso dai questa è facile eh Martini Montanari Oldrati 5 secondi Montanari giusto bravo Sandro Maddalena Sandro non è per niente un gentleman comunque vabbè questo lo sapevo anch'io ma vedrai con la prossima Maddalena con che moto debuttò nell'enduro Alex Salvini Honda Beta o Usquarna 10 secondi Beta risposta sbagliata peccato ultima possibilità se Sandro vince cioè se Sandro azzecca questa ha vinto eh matematicamente qual è il numero fisso di Rui Barbosa ma dai 14 o 56 è giusto eh Maddalena questa la sapeva molto bene molto bene 14 esatto per la gioia di Maddalena ha vinto Sandro però Maddalena prima che chiudiamo il collegamento perché sapevi bene la risposta a questa domanda perché come mai conoscevi così tanto bene il tema di Rui Barbosa il numero eh oddio ma il mio numero lo sai almeno i numeri li so quasi tutti pensavamo una love story qualcosa di romantico capito no però Rui è Rui Rui è Rui Rui è lui lui è lui però Sandro vince mi spiace Maddalena grazie però niente grazie a voi ciao 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 saluto a tutti Sandro rimani sempre lì eh ok no no non scappo allora per ora abbiamo Raffaele Sandro oh schippi ci sono i piloti straniere che vengono in Italia e vista cacchio Davide eh per i piloti italiani cioè non so guardate Davide che bel ragazzo sempre in torma campione mondiale insomma eh ragazzi fatevi avanti va bene ma torniamo all'enduro con Raffaello e Sandro attenzione questa è la finalissima quindi per la finalissima questa per la guardate i post-it dove io mi segno questa è la situazione dietro le quinte per la finalissima potete ah sono dieci domande quindi insomma è abbastanza lunga però avete anche quattro aiuti come come fosse un veramente un quiz televisivo manca solo Gerry Scotti e mancano le le ragazze cioè le letterine ma noi siamo più belli allora sono dieci domande a testa e gli aiuti gli aiuti sono belli c'è l'aiuto di Davide Sorecca potete chiedere a lui il suggerimento che oppure eh che magari vi aiuta o magari non vi aiuta perché lui non sa le risposte visti i precedenti poi il secondo aiuto sono 30 secondi extra quindi anziché i canonici 10 secondi eh potete fare un upgrade a 30 secondi in più quindi 40 secondi per ragionarci potete fare se no il terzo aiuto è la telefonata dei 30 secondi il problema è che se state usando il telefonino per il collegamento siete fregati tipo io ho il telefono devi chiedere il telefono al vicino vedi tu oppure no no ma c'ho l'amorosa in casa semmai chiamo lei perfetto il quarto aiuto giusto per rimanere in tema è l'aiuto da casa il più classico quindi tu dici all'amorosa cerca fai esci chiedi al vicino ok iniziamo da Raffaello aspetta che mi preparo il segnapunti allora intanto chiedo alla regia le dieci domande le facciamo di fila a Raffaello e vediamo quante ne indovina e poi passiamo a Sandro o andiamo avanti col ping pong chiedo alla regia te Davide cosa dici io direi alternato alternato ok alternato come prima abbiamo respiro il notaio conferma iniziamo da Raffaello chi fu il primo italiano a vincere un campionato del mondo tre opzioni Chico Muraglia Gianmarco Rossi o Giorgio Grasso ricordatevi anche gli aiuti se volete se no sono dieci secondi da ora 5 4 3 2 1 tempo scaduto Chico Muraglia Chico Muraglia risposta esatta al fotofinich la teniamo buona Sandro al pelo eh però quel secondo discarto lo teniamo anche per Sandro passiamo alla domanda per Sandro chi è il più giovane pilota a vincere un titolo E1 nella classe E1 del mondiale giosef garcia giacomo redondi o bret freeman 10 secondi a meno che tieni l'aiuto freeman risposta sbagliata Sandro era giosef garcia nel 2017 a 20 anni peccato peccato ma nulla è perduto siamo ancora a pari Raffaello in che anno Maxis divenne title sponsor del campionato italiano enduro ricordiamo che ci sono in palio anche le gomme Maxis 2015 2016 o 2017 17 10 secondi 5 4 3 rispondi in tempo 2 1 16 16 sbagliato Sandro le sappiamo tutte ricordatevi anche i quattro aiuti e mi raccomando se scade il tempo rispondete perché sennò devo considerarla nulla finché sbaglia finché sbaglia a lui praticamente io mi tengo avanti vai avanti inerzia allora domanda per Sandro in che anno Maxime o Axiver in passato divenne promoter del campionato italiano enduro quindi promotore attuale 1998 2000 o 2003 2003 2003 sbagliato anche per Sandro ricordatevi che avete quattro aiuti eh avete potete scegliere uno dei quattro aiuti passiamo Raffaello abbiamo una foto per te foto 001 001 chi è il pilota nella foto tre opzioni Simone e Bergoni Maurizio Micheluz o Johnny Ober dieci secondi Micheluz Maurizio Micheluz ed è sbagliata peccato 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 ma tanto Sandro Perona non ha azzeccata una quindi andiamo via a fare attenzione domanda un po' tecnica ma secondo me Sandro sulle domande tecniche ce la può fare te ne intendi di meccanica hai la faccia di uno che se ne intende in un motore a due tempi a carburatore in inverno con temperature basse come si agisce generalmente sulla carburazione quindi motore a due tempi in inverno cosa fai ingrassi la carburazione oppure la smagrisci oppure non la cambi tre opzioni la la smagrisci la smagrisci così grippi e salta in aria Davide io nella mia non la tocco mai è per quello che non so Sandro con questo hai dato una pugnalata ad Avide Sorecca cioè mi avevo l'idea che non mi conosce neanche che se non avrebbe chiesto l'aiuto aspetta ho il beta anch'io no allora vabbè l'inverno la carburazione va ingrassata perché con le temperature basse smagrisce entra più aria e quindi rischi di qui ok va ingrassata poi altra domanda tecnica per Raffaello però questa volta che cosa indica la sigla 10 V40 dell'olio motore qui la gradazione indica cosa indica 10 40 devi dircelo tu la densità dell'olio ok il 10 e il 40 cosa sono che due indicatori sono il 10 cosa rappresenta ma chiedo l'aiuto a Soreca a Davide vai Davide Davide aiutami mi dispiace ma mi dispiace ma non lo so non lo so mi trovi impreparato su questo cacchio è la gradazione ma non so l'indice 10 40 quindi devo considerarla nulla questa ma tanto Sandro non ha indovinato niente per adesso però allora il 10 chiamare il Tuglio dietro la viscosità dell'olio a freddo ad elevate temperature invece 40 indica la densità più è alto il numero e più è denso vabbè questa era difficile torniamo alle domande umane questa di Sandro mi sembra abbastanza alla portata a chi è intitolato il trofeo del 2012 che viene consegnato al vincitore dell'assoluta degli assoluti d'Italia quindi nel 2012 il trofeo assoluto dell'assoluta degli assoluti d'Italia era intitolato a ci dico tre opzioni Micaola Felice Manzoni o Augusto Tagliocchi dal 2012 il trofeo dell'assoluta è intitolato a questo pilota scusa dal non del dal 2012 in poi chiedo l'aiuto anch'io a Sorreca quindi cosa faccio do la risposta o gli do un'aiuto no dai la risposta per il primo no un trasferimento però insomma sì sì a Ola Manzoni o Tagliocchi cosa cosa suggerisci Davide per uno che ha vinto cinque mondiali ok a Ola a Ola giusto bravo Sandro siete uno pari uno pari passiamo alla prossima domanda ricordate anche gli altri aiuti eh in quale gran premio Alex Salvini si infortunò alla spalla lo scorso anno nel 2019 in quale gran premio Francia Italia o Grecia tre opzioni ti ricordo che hai anche gli aiuti 30 secondi chiedo l'aiuto a Thomas chi è Thomas non c'è Thomas Chiamalo hai 30 secondi per chiamarlo Thomas dimmi subito che che mondiale si era rotto la spalla a Salvini in che in che gran premio del 2019 che gran premio Francia Italia o Grecia 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 esatto esatto bravissima grazie Thomas ci sentiamo ciao Andro non vale però avere quelli amici lì quello Raffaello Raffaello ha conoscenze in alto quindi è in vantaggio di un punto Raffaello però nulla è perduto Sandro a che numero di domande siamo allora siamo alla decima domanda già a dieci dieci avete già risposto a nove domande insomma allora è l'ultima no sì è l'ultima se è la decima allora vediamo giusto Francesco è l'ultima domanda no no sono dieci a testa ah venti ok siamo a metà metà del percorso è infinito questo gioco siamo a metà qual è il ritardo massimo al controllo orario in minuti quindici dieci o venti Sandro mi sembra quindici esatto bravo Sandro pareggio allora andiamo alla prossima domanda e questa è abbastanza semplice Raffaello quanti pollici misura la ruota posteriore di una moto da enduro diciotto diciannove o ventuno pollici non mi ricordo diciannove non so se una cross diciotto e diciannove cross enduro eh ma qual è quella giusta diciotto e diciannove o ventuno la ruota posteriore posteriore diciannove diciannove sbagliato è quella da cross questa Sandro la sapeva Davide mi spiace questa pugnalata dal professore non ce l'aspettavamo però so che uno il diciotto è cross enduro ma non questa la sapevo anche io ragazzi allora Sandro dopo quanti metri dalla fine della speciale un pilota si può fermare Sandro questo è tosse venti metri venticinque metri trenta metri venti metri venti metri sbagliata quindi avete sbagliato a una testa c'è ancora due passiamo a Raffaello chi ha vinto il trofeo X Cup motocross marketing alfer 2019 Steve Holcomb Thomas Oldrati Alex Salvini chiedo ancora al Thomas posso chiedere ancora al Thomas eh no purtroppo se ce l'hai in casa se ce l'hai in casa sì se no no ma che il tempo passa Holcomb Oldrati o Salvini la 1 Holcomb Holcomb sbagliato sai chi l'ha vinta l'X Cup Oldrati me adesso non ti rispondo più adesso non faccio più telefonagli a questo momento dimenticati Thomas Oldrati domani dopo domani no vabbè se vuoi se vuoi noi taglieremo questo pezzo ok esatto dalla diretta verrà rimosso con un abiletto allora abbiamo una foto per la regia la foto numero 4 foto numero 4 chi è il pilota nella foto Sandro io ho il telefonino tre opzioni Matteo Cavallo Danny Filippa Herz Matteo Pavoni Cavallo Filippa Herz o Pavoni aspetta che c'è il telefonino non vedo bene il numero Filippa Herz risposta sbagliata Matteo Cavallo il telefonino lo vedo piccolo non ti preoccupare siete lo stesso due pari abbiamo ancora abbiamo ancora sei domande anzi quattro no sei 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 domande quindi siete pari andiamo con la prossima un'altra foto foto di repertorio numero 5 allora dove è stata scattata questa foto Sanremo Custonaci o Lignano Sanremo risposta giusto esatta questa questa la conosceva molto bene Davide quindi Raffaello sei in vantaggio di un punto andiamo a Sandro Sandro in che anno si svolse la prima edizione del trofeo delle regioni mini enduro questa è difficile 2006 2009 2011 trofeo delle regioni mini enduro dai che vi voglio vedere uscire vincitori con un treno di gomme 2006 9 o 11 avete ancora tre aiuti a testa eh l'aiuto va chiesto subito quindi 2011 esatto Sandro va che pareggio che hai sparato lì bravo bravo guarda che Sandro ne ha di fortuna eh allora Raffaello in che anno venne introdotto il ranking nell'enduro 2012 2014 2015 15 secondi ranking nell'enduro 12 14 o 15 in che anno 5 secondi 5 4 15 2015 esatto Raffaello bella Cassandro che lo vedo meno tranquillo di prima però è sempre lì braccia incrociate allora altra domanda tecnica quanti minuti di tolleranza vengono assegnati ai piloti che vengono fermati durante la gara per la fonometrica quanti minuti di tolleranza a chi viene fermato durante la gara per la fonometrica un minuto due minuti tre minuti un minuto un minuto risposta sbagliata no lo so per ora però Raffaello è in vantaggio era due minuti andiamo avanti Raffaello dove si svolse la tappa italiana del mondiale enduro 2019 Spoleto Breno o Rovetta 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 qui gioca in casa Raffaello Lavalli Bergamasche bravo risposta esatta una prova l'abbiamo gestita noi ecco vedi quella a Pino del Monte cross test ti ricordi al sabato che casino al sabato con la pioggia non ci riusciva a salire è stata tagliata a metà poi la domenica era un'altra cosa ok allora passiamo a Sandro Sandro non sbagliarmela perché se no se no sei fregato devi quantomeno rispondere al fuoco allora abbiamo una foto foto come la gente 007 questa è la foto numero 7 andiamo a vedere la foto chi è il pilota in foto ricordati ricordati gli aiuti giusto giusto bravo Sandro bravo Sandro risposta esatta allora per ora c'è in vantaggio di un punto Raffaello vediamo quante domande sono state fatte allora 8 e 6 14 e siamo arrivati a 20 domande quindi vince Raffaello Sandro vince Raffaello per un punto però purtroppo purtroppo per te e vabbè Sandro vuoi salutare qualcuno saluto tutti quelli che mi conoscono un saluto un saluto Davide ciao grazie e ci vediamo in giro in moto ok va bene ciao Sandro grazie ciao a tutti ciao è stato fregato dal ranking purtroppo ha sbagliato quella risposta quindi vince Raffaello vince un treno di gomme Maxis da 18 non 19 che il cross se no se poi ti arrivava sbagliata poi ci sgridavi ci bacchetti esatto allora ti diamo un 21 e un 18 complimenti Raffaello ma la le monti sulla tua moto giusto? tu hai la moto tu sei inurito 2k uno da cross e uno da enduro vedi perché si confonde 2,54 tempi ce le ha tutte e due per quello che si confonde Davide tutte e 2,54 tempi sia il cross che l'enduro ah ok ok per quello che faccio confusione se il 18 il 19 però non sbaglio ricordo non sbaglio a mettere i cerchi mi metto giusti allora Raffaello a chi vuoi dedicare questa vittoria? la dedico a tutti i miei amici del motoclub Ponteranica Augusto Tagliocchi ok ok eh ringraziamo anche Tova Soldrati eh e Tova Soldrati chiedo perdono chiedo perdono e e di rientrare ancora nell'amicizia no ma allora la domanda era un po' difficile perché l'X Cup è un trofeo a parte eh all'interno poi delle varie classifiche di categoria quindi io ti perdonerei fossi Thomas un po' un po' Francesco c'è da dire una cosa continua a vincere sto Thomas non riesco più a capire cosa sta vincendo capito non so se se vince le le estreme vince tutto non so cosa non riesco più a tenere il conto capisci per quello che faccio confusione vai tranquillo ti perdoniamo va bene allora ti ringrazio Raffaello poi ovviamente sarai contattato sì sì dallo staff di Italiano Enduro così ti ti spediamo il tuo terreno di gomme che hai vinto dopo questa bella sfida e speriamo che ci lasciano uscire così le proviamo ste gomme guarda io vedo che hai una cartina mondiale alle spalle spero che ti posso andare in tutti i posti che vediamo Raffaello allora ci vediamo spero presto magari a una prova di assoluti dalle vostre parti eh era bella anche l'italiano quella di Passirano che era qui vicino a noi anche l'anno scorso siamo andati a vederla quest'anno purtroppo si è rimasti un po' un po' tutto il mondo dello sport è rimasto un po' ma vedrai che da lunedì ci rimettiamo un po' tutti in moto i piloti hanno già rinunciato a allenarsi e infatti bene Raffaello ti saluto un grosso saluto a tutti ciao Davide ci vediamo qualche gara ciao Raffaello ciao ciao intanto ricordiamo a tutti che il 2 agosto per adesso c'è in calendario una prova di assoluti quindi incrociamo le dita Davide come li hai visti erano abbastanza preparati eh ma si dai qualche domanda era veramente difficile qualcuno era difficile poi va un po' anche a fortuna pensibile qualche io darei un premio speciale a Marco perché era in garage con la moto vestito da un po' sponsorizzata da una nota a casa di motoseghe si può dire una birretta e vestito cioè numero uno poi non si sa perché abbia oscurato il display se era un problema tecnico oppure sfogliava l'enciclopedia dell'enduro Davide allora niente che dire spero di di vederti presto in gara e ti seguiamo sui social così va bene a questo punto penso che abbiamo aspettato abbastanza è il momento di di un po' dai è il momento di dare gas grazie ancora per essere stato in nostra compagnia aver portato la tua conoscenza il tuo sapere ciao Davide grazie a te ciao 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 allora salutiamo tutti gli amici di italiano enduro grazie a tutti quelli che hanno hanno deciso di stare in nostra compagnia e coloro che hanno aderito soprattutto a questo concorso dove insomma con una bellissima iniziativa di motocross marketing e maxis abbiamo regalato due treni di gomme così solo partecipando e avendo un po' di conoscenze sull'enduro io vi ringrazio vi ricordo che poi vi aggiorneremo anche sul nostro calendario dirette quindi ciao Giorgia quindi ci vedremo martedì e giovedì e poi speriamo di vederci in pista il 2 agosto passiranno per gli assoluti di taglia di enduro ciao da Schippi grazie all'italiano enduro grazie a maxis grazie a motocross marketing ci vediamo ciao ciao